Il progetto c'era, ma gli abitanti non l'hanno voluto. Si difende così l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Piero Di Stefano, rispondendo agli abitanti delle palazzine Ater di Valle Pretara che avevano protestato proprio ai nostri microfoni. Io voglio anche ricordare che per Valle Pretara noi proponemmo un bellissimo progetto di recupero supportato dall'Università di Valencia con due bravissimi professionisti aquilani e che comunque dopo tante e tante riunioni i cittadini non vollero, quindi sono rientrate nella procedura ordinaria. Secondo me è stato un grande errore quello di opporsi in quel modo feroce. Poi l'amministrazione pubblica tiene conto di quello che dicono i cittadini, a volte però le visioni sono sbagliate. Era la stessa visione che ci ha portato a fare il progetto unitario di Via 20 Settembre. Ne è nato un bellissimo progetto, sono arrivati a finanziamento perché abbiamo messo in piedi le procedure per arrivarci. I residenti del quartiere Aquilano, rimasto al 6 aprile del 2009, protestano per la lentezza della ricostruzione quando, da sotto la cinta muraria, vedono palazzi nobiliari tornati all'antico splendore. I palazzi nobiliari sono i palazzi vincolati, quando un palazzo è vincolato c'è un interesse dello Stato. Le mura cittadine sono un bene pubblico, un bene storico pubblico, è un tratto identitario di questa città. Cominciamo a dire che ciò che è pubblico, ciò che è collettivo sicuramente viene prima di quello che è privato.